Allora, comunque lo verifichiamo nel quartiere Carrassi. Parliamo invece degli accertamenti Tarsu, è stato un po' il vostro cavallo di battaglia negli ultimi mesi, ricordiamo però che era stata sottolineata dopo Ancheici, è vero. Sulla base dell'esposto di un contribuente era stata ritenuta l'attività dell'amministrazione illegittima, è arrivato invece l'occhè del Ministero che ha ritenuto legittimi quegli accertamenti Tarsu retrattive perché risalivano al 99. Quel contribuente ne aveva fatti due di esposti, uno impugnando la delibera di aumento della Tarsu del 2009 e abbiamo ottenuto una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che lui sosteneva, il contribuente, il ricorrente, sosteneva la illegittimità dell'aumento per una serie di ragioni. La Commissione Tributaria Provinciale con un proprio provvedimento ha invece ribadito la legittimità dell'aumento praticato. L'altro riguardava una presunta illegittimità dell'applicazione di sanzioni a fronte di dichiarazioni mendaci, cioè non rispondenti al vero. Il Ministero ha risposto sostenendo che nelle ipotesi di dichiarazioni che non corrispondevano alla realtà dei fatti e quindi di dichiarazioni infedeli, l'amministrazione comunale ha l'obbligo di applicare la sanzione e quindi riteniamo, pensiamo, speriamo di aver definito anche quest'altra questione, ma credo che stando al tenore della risposta del Ministero la condotta degli uffici comunali sia stata ritenuta corretta. E parliamo e parliamo, e bene dirlo, di aspetti tecnici che non hanno nulla a che vedere con le decisioni politiche dell'amministrazione. È una questione di interpretazione data dagli uffici comunali. Assolutamente, di leggi, di criteri utilizzati, quindi attenzione, non stiamo parlando di altro. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno, volevo porre un paio di domande all'accessore Gianni. Sì, prego. Allora, in merito al sostegno che lui ha detto dei 51 milioni di euro per i disabili, per tutti i servizi sociali, non mi sembra che ci sia pisse tutte le mani nei confronti dei disabili, in quanto oggi leggevo in giornale, da giorni in campeggio alla notizia, della questione del pagamento sull'autobus. Questo è il primo aspetto per i disabili. Poi, la seconda cosa, ho letto assolutamente, questa non è una questione solo dell'amministrazione e dell'assessore di competenze di Giannini, ma a livello nazionale, dell'IMU anche sulla prima casa per i disabili. Già che ci sarà in ogni comune la decisione in merito a questo, io direi e faccio appello all'assessore Giannini di non approvare questo tipo di cosa per i disabili. Ultima domanda, vorrei sapere a che punto sono lo Stato, in basso a quello che era il piano vecchio di edilizia residenziale pubblica, fra quanto arriveranno dei nuovi alloggi popolari? Questo è quanto. Va bene, grazie per il suo intervento. Anticipato tra l'altro anche l'argomento dell'IMU che le avrei chiesto tra pochissimo, iniziamo con gli autobus, rimedulate le tariffe con l'IMU. No, cominciamo con le case popolari. Va bene, iniziamo con le case popolari. Allora, intanto sta per uscire il nuovo bando per la formazione della nuova graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. I prossimi alloggi di edilizia residenziale pubblica sono nel primo comparto della Maglia 22, dove costruisce il consorzio Sant'Anna, mi pare che siano 112 e lo IACP ha già le risorse disponibili per realizzare quegli alloggi popolari. È stato già firmato il protocollo d'intesa tra l'altro con lo IACP? Sì, certo. Calcoliamo un 18 mesi, magari diventano anche di meno dalla data dell'apertura del cantiere per la realizzazione di quegli alloggi. La seconda era per gli autobus. Una piccola correzione, non so se sia giusta, mi permetto di suggerirle. La graduatoria, credo che il bando sia già uscito per la graduatoria dei nuovi alloggi, no? No. Si è già stato pubblicato? No. Perché il... No, il bando per l'assegnazione di case popolari deve ancora uscire. Ah, ok. E credo che la collega farà anche una conferenza stampa per annunciare la pubblicazione del bando, visto che bisogna dargli il massimo della... Certo. Megafono mediatico, assolutamente sì. Per gli autobus, io credo che noi dobbiamo anche ragionare su un livello che credo sia di equità. Il soggetto diversamente abile è un soggetto che, per quanto riguarda i diritti quelli comuni, è alla pari con qualsiasi altro cittadino. È evidente che la tariffa dell'AMTAB è una tariffa per la prestazione di un servizio. E siccome noi non possiamo più reggere uno stato sociale che preveda to cure la gratuità, siamo costretti a fare riferimento al reddito dei nuclei familiari, dei singoli soggetti, per cui è sulla base di quel criterio che adesso si discute per la prestazione di servizi di quel tipo. La terza domanda era... L'IMU. L'IMU. L'IMU è una tassa legata alla proprietà, che quindi prescinde dalle caratteristiche reddituali e soggettivi del soggetto proprietario. Poi ci possono essere all'interno del regolamento che il Comune andrà a varare delle agevolazioni, delle detrazioni ulteriori, ma questo è un altro ragionamento. L'imposta che è stata introdotta con la legge del governo Monti è un'imposta che è collegata alla proprietà immobiliare e non può tenere in considerazione nessun altro tipo di elemento. Non può nemmeno essere prevista in misura progressiva. Tra l'altro dobbiamo dire che per quanto riguarda l'IMU non sono ancora state definite le aliquote? Assolutamente no. Sono definite entro maggio probabilmente? No, le aliquote vengono definite col bilancio di previsione. Noi speriamo, anzi siamo fortemente orientati ad approvare il bilancio entro il mese di maggio, ma dobbiamo fare i conti con dei nodi che il governo deve ancora sciogliere e che rendono ancora incerte le entrate comunali, perché per esempio non si è ancora deciso se è vero che il Comune deve pagare il 3,8 per mille sulla rendita catastale rivalutata del 60% sugli immobili di sua proprietà che ricadono nel proprio territorio. Stiamo parlando di milioni. Cioè a quel punto conviene vendere e dismettere tutti i modi? Beh se potessimo farlo, ma non possiamo farlo perché dobbiamo svolgere anche una funzione di carattere sociale. Dobbiamo sapere se gli IACP debbono pagare o no l'IMU e che aliquota debbono pagare, dobbiamo sapere anche se noi dobbiamo pagare l'IMU sugli immobili di nostra proprietà che ricadono in territori di altri comuni. E queste cose influiscono in maniera pesante sulle entrate comunali che non hanno ancora il livello di certezza che richiede la legge per fare i bilanci. Ecco a fronte di questi tradici cospicui, di tutte queste spese che peseranno inevitabilmente e pesantemente sulle casse di palazzo di città si prevede un inaspiramento delle tassazioni? Non rispondo a questa domanda nemmeno se me la ripeti cento volte. Vedremo quello che riusciremo a fare. Ribadisco che noi siamo impegnati nel definire, nel delineare una manovra equa e sostenibile, nel senso che chiederemo a chi ha di più di fare sacrifici in più rispetto a chi ha meno. Può escludere l'assessore Giannini che in un prossimo futuro non saranno aumentate le tasse? Non rispondo a questa domanda. Si avvale della facoltà di non rispondere, ovviamente in senso lato. Oggi consiglio comunale non possiamo non parlarne sul Petruzzelli, un consiglio comunale monotematico tra l'altro richiesto dall'opposizione. Non ci sarà il commissario Carlo Fortes che avrebbe dovuto relazionare sulla situazione economica della fondazione Petruzzelli. Un dibattito acceso sicuramente si preannuncia assessore o no?